Un evento importante che comunque fa continuare Chieti ad essere una delle capitali più importanti della cultura. Assolutamente sì, torniamo a offrire alla città, alla nostra città e non solo, a tutta la regione, un'offerta culturale di manifestazioni di grande pregio e di grande qualità. Oggi presentiamo la rassegna più importante del cartellone generale che si chiamerà Estate Tiatina 2021. Questa rassegna, denominata Chieti sotto le stelle, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Banco Napoli e vede protagonisti degli artisti di altissima rilevanza a livello nazionale, tra cui Fabio Concato, Nichi Nicolaia e Stefano Di Battista, ma anche orchestre come la Sinfonica Abruzzese, ci sarà il primo trombettista di Ennio Morricone. Insomma, veramente offriamo manifestazioni di grandissimo pregio. Oggi presentiamo questa rassegna, che sarà nel mese di luglio principalmente, qualcosa nel mese di agosto e poi ci saranno quattro eventi importanti organizzati dentro al Palazzo De Maio in settembre. La presentazione di oggi di Chieti sotto le stelle è il segnale preciso di una operatività che continua nel tempo, soprattutto in questo momento così particolare, dove la Fondazione crede moltissimo nel rilancio, attraverso l'arte, la cultura e la musica, ancora più, dei territori che la Fondazione rappresenta, che sono sei regioni del meridione. Ma Chieti è un nostro luogo di elezione perché qui a Palazzo De Maio la Fondazione Banco di Napoli è arrivata grazie alla operazione straordinaria che ci ha consentito di incorporare l'ex Fondazione Cari Chieti e quindi noi abbiamo qui una missione fortissima sociale, culturale e soprattutto di grande collaborazione e sinergia con l'ente locale che è il comune di Chieti. Il Palazzo De Maio è un luogo meraviglioso, è un palazzo settecentesco, tra l'altro nato dall'opera di un nobile napoletano, quindi continua la costruzione di questo ponte Napoli-Chieti. E infatti all'interno della rassegna Chieti sotto le stelle portiamo una mini rassegna che si chiama Napoli, musica per il mondo, fatta in collaborazione con Marisa Laurito, che è la direttrice artistica del teatro Trianon Viviani, che è un teatro dedicato alla canzone napoletana e porteremo qui dei giovani artisti, dei talenti emergenti nell'ambito della nostra musica partenopea. Ma io devo ringraziare l'amministrazione comunale perché uno fra questi concerti è dedicato alla fondazione, che è il concerto di Emilia Zamuner, che è proprio dedicato alle canzoni della napoletanità.